Mercoledì 14 giugno Ariete, il vostro sforzo è davvero incomiabile, siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. Brillanti, socievoli, simpatici, umore effervescente, ispirazioni creative da mettere subito in pratica. Toro, è ipotizzabile qualche problema a rispettare gli appuntamenti in agenda, una serie di fastidiosi intralci richiederà tutta la vostra attenzione, alleggia un'area bizzosa, non vi sentite amati nel modo giusto ma a ben vedere nutrite troppe pretese. Gemelli, molti i pianeti che vi appoggiano e che vi daranno una mano ad assolvere in fretta le vostre incombenze per dedicarvi ad una serata movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un'uscita in gruppo, un cinema o una festa, viaggi, affari. Cancro, l'incontro casuale con una persona nuova riserverà grandi sorprese in futuro se la sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Potrete arrivare a una proposta di trasferimento, valutate quanto stress comporterebbe il cambiamento. Leone, proibito da ricorda alla emotività soprattutto nei riguardi degli amici, si litiga per questioni di danaro e di interessi o per i rispettivi amori, guardare agli ostacoli come fautori di possibilità piuttosto che come intralci modifica la visuale. Vergine decisi ad ottenere conferme dall'ambiente e vi muoverete con sicurezza dando importanza alle public relations e all'immagine professionale. I vostri modi conquistano la simpatia di chi vi sta intorno, però state in campana, non alimentate false speranze. Bilancia. Sostenuta dalla vostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo, aiutandovi ad esprimere il vostro potenziale in idee originalissime, intesa profonda con un vecchio amico con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime. Scorpione, grandi protagonisti e assillo l'attività, le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari e la difficoltà a trovare una mediazione. Appare complicato conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile. Sagittario. L'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da una inevitabile serie di impegni. Intrigati dalla tecnologia, trascorrete parecchio tempo davanti a uno schermo? Proteggete la vista. Capricorno, sfruttate la giornata per chiedere scusa ad un collega o per rivedere un amico di vecchia data perso di vista da tempo. Dialogo e comprensione, chiarite le divergenze di vedute con il partner, ma astenetevi dal riportare in ballo torti oramai datati. Acquario. Pimpanti, sbagnosi di rinnovamenti, propensi a rimettervi in gioco e a conoscere facce nuove, non tollerate, attentati alla vostra libertà. Evitate le polemiche su questioni irrilevanti, l'ambiente di lavoro non ha affatto bisogno di litigi. Pesci, se non avete fretta di portare a termine i programmi stabiliti e di rimuovere gli ostacoli in tempi troppo stretti, vi garantirete la serenità. Pur con qualche patema d'animo, vi avvicinerete ad una persona che finora avete solo guardato con gli occhi languidi.